amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi riprendiamo un vecchio video che avevamo fatto vedere tempo fa comunque se andate a spulciare sull'elenco dei video fatti precedentemente lo trovate di una macchina che avevamo preso in carico nello specifico è questa macchina che è appunto una mini coupé particolare che il cliente ci aveva affidato tempo addietro e che abbiamo dovuto riprendere in toto e ripristinare in toto perché il cliente l'ha comprata la macchina era stata anche pesantemente modificata dal precedente proprietario e aveva alcune pecche meccaniche che abbiamo risolto quasi tutte infatti adesso vi descrivo quello che abbiamo fatto perché la macchina è finita al 90 per cento mancano le ultime finiture che dopo vi descriverò quindi la macchina è stata completamente lucidata perché era a livello di carrozzeria in condizioni pietose aveva un'ammaccatura anteriore qui aveva il logo che praticamente era scomparso ammaccatura posteriore quindi la macchina è stata completamente sistemata di carrozzeria adesso diciamo che sono stati fatti lavori grossi poi prima di consegnare al cliente ovviamente andrà lucidata in maniera fine andranno sistemate le ultime cose comunque diciamo che la parte di carrozzeria è stata diciamo ha interessato soprattutto la parte anteriore e la parte posteriore perché aveva una parte qua dietro se non mi ricordo male schiacciata quindi è stato riparato e riverniciato poi tutto quello che abbiamo fatto in sostanza è la parte motore abbiamo dovuto siamo intervenuti perché va parecchie perdite d'olio quindi c'erano perdite d'olio in due o tre punti diversi quindi abbiamo dovuto individuare da dove perdeva dal coperchio punterie la guarnizione fra motore cambio cioè c'erano diversi punti in cui siamo dovuti intervenire e abbiamo ripulito tutto provata la macchina adesso le peritorie sono state sistemate è stata revisionata la turbina perché questa macchina qui è una john cooper works col motore già non a compressore volumetrico ma con la turbina il motore di derivazione bmw il turbo era fiacco quindi abbiamo smontato la turbina e revisionato il turbo e poi quello che ci ha chiesto il cliente ecco a livello estetico mi stavo dimenticando ripristinati completamente i cerchi perché erano molto vissuti molto sofferenti li abbiamo smontati e riverniciati nel suo colore originale e poi quello che ci ha chiesto il cliente era ripristinare diciamo diciamo a livello di originalità alcune parti che erano state modificate nello specifico facciamo l'esempio se voi andate a riprendere il video precedente questa macchina aveva montato dei sedili sportivi a guscio il cliente per fortuna quando ha acquistato la vettura si è fatto dare sedili originali abbiamo rimontato sulle guide sedili originali andando a riprescare quelle che erano i preintensionatori delle cinture quindi abbiamo riportato l'originalità poi siamo intervenuti sullo scarico perché anche lì era stato fatto un lavoro sullo scarico con uno scarico artigianale montato anche malamente quindi abbiamo sistemato ripristinato la parte dello scarico siamo intervenuti soprattutto sulla parte centrale c'era la parte centrale che era di un diametro più piccolo rispetto alla parte terminale quindi abbiamo ripristinato la parte centrale abbiamo ricostruito il catalizzatore che era stato eliminato una cosa che noi sconsigliamo sempre è quella di andare a montare un downpipe senza catalizzatori infatti la macchina ci è arrivata con la spia motore accesa perché non aveva il catalizzatore quindi se voi andate ripeto a rivedere il video abbiamo avuto la fortuna che essendo dei grossi clienti della ragazzon abbiamo spedito il downpipe che abbiamo smontato dalla macchina alla ragazzon la quale ci ha ricostruito la parte diciamo del downpipe con un catalizzatore sportivo quindi abbiamo ripristinato anche se abbiamo messo un componente sportivo abbiamo ripristinato la parte di funzionalità dello scarico e la macchina a livello diciamo sia di rumorosità sia a livello di spie perché queste spie qua è molto difficile spegnerle sia a livello di revisione problemi non ne ha più poi a livello diciamo tecnico siamo intervenuti qua si vede bene abbiamo cambiato tutta la parte dell'impianto frenante qui ci sono le pinze sono chiaramente rimaste le sue originali marchiate john cooper works si vedono le pastiglie abc gialle e i dischi anche in questo caso puntati e baffati dalla abc quindi sia anteriormente che posteriormente abbiamo rimesso quindi anche dietro si vede chiaramente il la pastiglia gialla e il disco sportivo per quanto riguarda gli ammortizzatori quelli che aveva montato erano veramente scoppiati come si suol dire perdevano olio c'era un ammortizzatore anteriore che trafilava olio quindi abbiamo rimesso le molle originali perché anche in questo caso la macchina montava delle molle sportive non si capiva neanche di che marchio ma comunque eccessivamente basse questo ribassamento estremo ha fatto sì che gli ammortizzatori lavorassero male uno infatti era scoppiato quindi abbiamo rimesso sulle molle originali che ci aveva fornito il cliente fortunatamente e montato dei bilstein b6 che sono ammortizzatori sportivi monotubo che si vanno a copiare alla molla di serie direi che per il momento è tutto ci manca da rivedere dobbiamo appunto finire la lucidatura dobbiamo ancora controllare il condizionatore perché è un problema non funziona qui probabilmente un componente del condizionatore sarà da sostituire però fatto salvo queste due cose dopo circa un paio di mesi nel giro di una settimana riteniamo di essere in grado di riconsegnare la macchina cliente io direi anche per questo lavoro impegnativo è tutto mi invitiamo a contattarci in sede come al solito lo 027383175 io sono luca sono sempre a vostra disposizione consultate il sito www.9milagiri.it soprattutto nella parte archivio elaborazioni e vi invitiamo a cliccare sulla campanella e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao ciao